80 per cento angioletto 20 per cento diavoletto 100 per cento sporco dappertutto ma finalmente nuovo acespray universale riporta il 100 per cento del pulito acce dappertutto pulisce e igienizza ogni superficie e perfino i capi colorati nuovo acespray universale 100 per cento pulito acce finalmente dappertutto e ogni volta che ti serve la super efficacia della candigina acespray mousse